Noi stiamo collaborando con ELIS da tanti anni fa, io ricordo al primo anno che sono venuto in Italia, 2012, abbiamo cominciato il rapporto con ELIS. Per noi ELIS rappresenta una bella realtà dove coincidono il mondo, la realtà educativa, la realtà accendale e dove i ragazzi che stanno in percorso formativo possono imparare da vicino la realtà accendale per prendere una preparazione più ampia e nel futuro essere in grado di andare a esvolgere un lavoro di qualità nelle accende italiane. Io vorrei parlare ai ragazzi sulla etica nel mondo del business, nel negozio. Sempre che uno prende una decisione, qual sia così, dietro sono persone, famiglie. Io credo che la etica è un elemento fondamentale per qualsiasi aspecto della vita, come no, per il mondo lavorativo, il mondo empresariale, è un elemento fondamentale. Quello che io potrei acosigliare ai ragazzi che vogliono entrare oggi nel mondo laborale è che devono avere, come no, una etica nella sua vita nel negozio e una formazione che oggi deve essere molto molto exigente e molto mirata al mondo empresarial. E' importante per il ragazzo anche per la gente avere la possibilità di avere professionisti giovani con una formazione educativa molto orientata al mondo empresarial in cui devono esvolgere la sua attività e in cui vanno a vivere.